Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo. In FIPILI traffico ralentato a causa di un incidente tra lo svincolo di Firenze e lo svincolo di Firenze viadotto indiano direzione Mare. Ricordiamo che in FIPILI fino all'8 dicembre è tratto chiuso per lavori al km 0 della SP224 di Marina di Pisa, nei pressi dello svincolo di via Quaglierini a Livorno, per Frana, km 79, 865 direzione Mare. Sulla strada regionale Due Cassia, senso unico alternato e restringimento di careggiate per lavori all'altezza del km 268 a Barberino-Tavernelle. A Firenze fino al 20 aprile restringimento di attratti per lavori in piazza Gavinara, viale Giannotti, via delle Bande Nere e via Caponsacchi. Moersi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio!